Di colpo abbiamo udito un boato fortissimo e questa scossa che ha iniziato, insomma, tutto ha iniziato a tremare. Anche le tende, la gente è uscita fuori, alcuni stavano mangiando, sono usciti dalla tenisostruttura, quindi ci sono state delle scene di panico generalizzato. Ovviamente la gente è stanca e ha paura, la scossa è stata molto forte. Personalmente una scena per me molto toccante è stata una signora che ha avuto una crisi di panico, mi ha chiesto di accompagnarla per verificare se la sua casa aveva subito dei danni. L'ho accompagnata fino al ciglio della strada, la signora quando si è resa conto che la casa era intera, si è commossa, mi ha abbracciato fortissimo. Ora abbiamo visto la casa che si muoveva da una parte all'altra, sembrava che venisse giù. Cioè è stata una cosa veramente... Il problema è che queste scosse qua non sono normali, perché viene una scossa forte, alcune deboli, poi altre scosse forti. E' durata tanto? Sarà durata 10 secondi, però in quel momento lì sembra che siano delle ore. La mia paura è che non si tratti di un terremoto, ma di qualcosa di molto diverso, di qualcosa non comprensibile. Io ho sentito altre scosse anche negli anni scorsi, qua ce ne sono state, ma sono state situazioni molto diverse rispetto a quello che noi cittadini stiamo sentendo in questi giorni. Come un'esplosione, ha detto lei. Io ho l'impressione di sentire dell'esplosione. A fianco, come vedete, questo muro in pietra, lì era la continuazione della torre. Lì cercava la torre. Lì cercava la torre. E quindi quello che c'è in terra è quello che rimane, che è caduto stanotte? Quello che rimane è il resto è sprofondato all'interno. Già Novi era un paese comunque morto prima, adesso diventerà un paese fantasma dopo queste scosse. Comunque la gente ha paura. E le case, quelle poche che ci sono, non si sa ancora quanto dureranno. Sì, è come se ci fosse un'onda. Io paragono veramente al mare in tempesta. Sentivano degli scossoni venire da sotto, accompagnati da quel buato. Sono delle scene, come dicevo prima, di forte impatto emotivo. Anche se la gente qui si sente al sicuro, perché fondamentalmente non ci sono strutture cedevoli, non c'è un pericolo imminente, però l'impatto è sempre quello che è.